Buongiorno, buongiorno, benvenuti, buon sabato mattina, come sempre iniziamo la giornata con la rassegna stampa Occhio e Giornali tutte le mattine alle 7.30 qui in diretta su Fano TV. Bene, come sempre guardiamo anche il Santo del Giorno e poi le previsioni del tempo, quindi facciamo le cose con il dovuto tempo. Bene, Santo del Giorno oggi, sabato 19 novembre e Santa Matilde di Acheborn e il sole è sorto alle 7.08 e tramonterà alle 16.39. Previsioni del tempo, allora sull'insegna dell'incertezza, vediamo anche la cartina raffigurata qui nella pagina della protezione civile Marche, vede molta variabilità, vedete sole, pioggia, nuvole, insomma c'è un po' di tutto. Nuvoloso in particolare però nelle zone interne, nel settore centro-settentrionale della regione e da nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso nei settori collinari e costieri centro-meridionari, però la nuvolosità andrà diminuendo nello scorre della giornata. Deboli le precipitazioni intermittenti e più probabili nelle zone interne, le temperature sono in aumento nei valori minimi, però senza grosse variazioni di rilievo. Ci saranno anche venti abbastanza moderati e il mare mosso, molto mosso, quindi mare agitato. Per domenica le previsioni sono queste, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, però con prevalenza di schiarite dalla tarda mattinata in poi, insomma quindi le prime ore del giorno saranno un po' l'insegna della nuvolosità, poi vedete il sole ha la prevalenza sulle nuvole, possibilità di qualche residuo più vasco nelle prime ore della giornata, però la simbologia vedete non compare neanche, quindi deve essere proprio una remota possibilità. Temperature senza variazioni di rilievo, venti di bassa brezza nei quadranti meridionali, quindi diminuzione sia del vento che anche del moto ondoso. E vediamo per lunedì, primo giorno della settimana, qui anche qui, didascalie molto scarne, cielo irregolarmente nuvoloso, nessuna precipitazione, temperature in lieve aumento, quindi insomma all'inizio della settimana. Parte diciamo con il bello, col bello. Bene, allora erano qui i giornali e insomma sono rimasti qui, vediamo subito come presentano le proprie pagine, i quotidiani, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Partiamo dal resto del Carlino di Fano, dall'evento insomma del Clu della giornata, l'arrivo del Presidente del Senato Pietro Grasso per assistere al conferimento della cittadinanza onoraria al bambino Divine Dignity e mamma Collins sul palco, insieme la vedete qui la figurata, insieme a Grasso, Seri e Rosetta Fulvi. Toccante il discorso sia della mamma ma insomma di grande sostanza anche quello del Presidente, chi va a scuola qui è giusto che diventi italiano ma la legge è in ritardo, il Presidente del Senato conferisce la cittadinanza a Divine insieme ai vertici del Consiglio Comunale. Il Sindaco Massimo Seri dice c'è un dramma dietro ogni migrante ma i media parlano di storie collettive. Ecco qua, mamma Collins dice nel suo breve discorso mi batterò perché ognuno possa praticare la propria religione. Questo è, continuiamo nelle pagine del resto del Carlino, quartiere Poderino, ancora i timori del Comitato che alza un po' la protesta in virtù della riapertura su polveri e rumore, le loro preoccupazioni, l'Interquartieri fa tremare il quartiere Poderino, il 4 dicembre la Giunta ha rinviato dopo tale inaugurazione dell'infrastruttura per il blocco naturalmente delle votazioni, l'altro barriere antirumore del quartiere Poderino, dall'alto le vedete, sono queste qui, chi ci passa la vede e insomma notti un po' insonni in virtù della apertura per quella parte della città. Allora, inaugurazione, una buona notizia per dalla Valle del Cesano Orciano che ha il suo palace, oggi il taglio del nastro torna a rivivere l'ex bocciodromo, vedete questa era la condizione prima e la condizione adesso, direi decisamente migliore. Rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino, si parla di sanità, naturalmente questa mattina a Urbino c'è il vertice dei sindaci dell'area vasta, sarà un'assemblea molto calda, si saranno scoperti i giochi e Ricci evita lo scontro aperto con Seri, ospedale unico, oggi l'assemblea dei sindaci sui nuovi criteri, le grandi manovre per Pesaro ci sarà il vice sindaco Vimini, importante è, dice, votare i criteri condivisi. Una notizia per gli amanti della musica, arriva un grande artista in provincia, arriva Renato Zero, settimana pesarese all'Adriatic Arena, le prove del suo tour, già all'opera la band dell'orchestra filarmonica della Franciacorta. Il tour che partirà il 3 di dicembre comincerà da Bologna il 24 a Pesaro il 3 dicembre. A Bologna il 24 novembre e a Pesaro ci sarà il 3 di dicembre. Allora, l'ultima pagina che vi faccio vedere del resto del Carlino è un fatto di cronaca, poco piacevole, soprattutto per chi l'ha subito, perché insomma questo anziano dopo essersi accorto che gli hanno portato via il portafoglio è stato colto da malore. Siamo in via Maroncelli, due signorine chiedono un passaggio a un ottantenne, poi fuggono con la bellezza di 600 euro. Le indagini si verifica se esistono telecamere che abbiano ripreso la scena, quindi gli inquirenti vogliono scandagliare le telecamere che spesso, spesso come abbiamo visto anche in passato, possono risolvere diversi casi di questo tipo. Ancora il Corriere Adriatico, cambiamo testata, la pagina di apertura, qui la fotonotizia è per il bimbo di Van tra la mamma che lo tiene in braccio e Seri e Grasso. Di Van, cittadino onorario, Fano e la favola del bambino. Naturalmente questo era l'evento che catalizzava un po' tutta la giornata di ieri, misure imponenti di sicurezza in piazza a Fano, però tutto è andato molto bene. Ancora dalla pagina di Pesaro non abbiamo da nascondere nulla, parla Tagliolini, il presidente della provincia che guida la cordata contro Fosso Segliore e promette di superare la seduta segreta. Quindi si vota, come si dice, a carte scoperte per vedere chi vota e che cosa. Ancora dalla pagina di Pesaro, per una sanità che è un po' in subbuglio, una buona notizia per i pazienti dializzati, riaprono dialisi e nefrologia, odissia finita per i 90 pazienti. I lavori nel reparto sono costati 761 mila euro, il direttore De Luca dice ora c'è il centro a Feresi. L'ultima pagina che vi faccio vedere riporta, per quanto riguarda Pesaro, riporta un fatto di cronaca, ladri scatenati nel negozio, la rabbia viaggia su Facebook, Piccinini Leonardo si sfoga postando un video, poche difese per la gente onesta. Questo il suo sfogo naturalmente dopo aver subito il furto. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, anche questa è incentrata tutta sulla presenza di Grasso a Fano al Teatro della Fortuna, un stralcio del suo discorso, dice dietro i numeri si c'erano storie di violenza e speranza anche come questa. Diamo dignità a questo bambino e quindi l'emozione avvolge il pubblico del Teatro della Fortuna, un Teatro della Fortuna veramente gremito in tutti i suoi ordini, con oltre 90 bambini che hanno cantato, Lino d'Italia, Lino la Gioia, Nina Nanna e insomma veramente un bello spettacolo, teatro pieno. Presidente del Senato alla cerimonia per la cittadinanza appunto di Divan, vedete qui nella foto anche qui tutti i bambini che hanno cantato Lino d'Italia per salutare il Presidente del Senato. Ancora nella pagina del Corriere Adriatico che riguarda Fano, viabilità anche qui manca l'uscita per Pesaro, viabilità da rifare, il Comitato di Poderino chiede correttivi, il modello è quello applicato a Ponte d'Era, cioè un modello di riferimento al quale loro mirano per risolvere questo problema che insomma li affligge da quando è stata ventilata l'ipotesi di fare appunto interquartieri in quella zona. A Fano blitz della finanza alle superiori con cani antidroga che entrano nelle classi, controlli eseguiti negli istituti fanesi anche a scopo preventivo dopo i ripetuti arresti di appunto spacciatori vicino alle scuole e quindi insomma cani antidroga per scovare stupefacenti nelle scuole. Andiamo nella Val Cesano, giardini storici e frazioni si riparte, manutenzione e funzionalità, gli obiettivi del rilancio e del piano delle opere pubbliche e quindi insomma ruspe al lavoro per dare insomma un nuovo impulso a questa zona. Si è commemorato una ricorrenza importante per la zona di Fano, sono state ricordate le 11 eroine che ci indicano il valore dell'accoglienza, il sindaco alla cerimonia dell'anniversario del salvataggio del pontone fa di Bruno. Il prossimo anno ricorre il centenario ma la rufta dice un evento sempre più importante per Marotta, questo evento legato alla guerra mondiale. Ultime due pagine che vi propongo per la segna stampa di questa mattina sono quelle di Senigallia e si va appunto a focalizzare i problemi del centro che è sempre a le attenzioni della pagina di Senigallia, rivoluzione viabilità, come cambia la circolazione, i provvedimenti entrano in vigore lunedì ma con la chiusura del ponte 2 giugno, vedete qui tutto insomma il prospetto di che cosa avverrà strada per strada, salvaguardate le esigenze attualmente degli operatori commerciali, penalizzato però il traffico sulla statale, quindi giorni di traffico intenso si prospettano da quelle parti. Ultima cosa che vi propongo a Senigallia, l'intervento che salta è un caso, parliamo di sanità, un ragazzo di 20 anni chiamato in ospedale e poi rimandato a casa senza spiegazioni grazie al tribunale del malato però lunedì l'operazione sarà effettuata a Fabriano, importantissima l'azione del tribunale del malato perché insomma tutto fa da sentinella per casi tipo questo. Va bene? Ok grazie, io mi fermo qui, siamo arrivati in fondo all'ultima rassegna stampa della settimana, occhio ai giornali, tornerà lunedì mattina alle 7.30 puntualmente, non mi rimane altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon saluto e una buona domenica a tutti voi. Grazie e a lunedì!